Italiano Bello Storie e letture in italiano La leggenda di Jack O' Lantern C'era una volta un uomo di nome Jack che viveva in un piccolo paese in Irlanda. Jack andava sempre al pub e beveva molto. Era un ubriacone. La notte di Halloween Jack era al pub, come al solito, e lì ha incontrato il diavolo. Il diavolo voleva prendere la sua anima, ma Jack gli ha detto Va bene, ti do la mia anima, ma prima, per favore, offrimi da bere. Vorrei bere un'ultima volta. Il diavolo non aveva soldi. Così si è trasformato in una moneta da sei pens per pagare un boccale di birra. Jack ha preso la moneta e l'ha messa velocemente nel suo borsello, in cui si trovava una croce d'argento. Liberami subito, ha urlato il diavolo arrabbiato. A causa della croce, infatti, non poteva più trasformarsi. Io ti libererò, ma tu starai lontano da me per dieci anni, ha detto Jack. Il diavolo non aveva scelta e alla fine ha accettato. Dieci anni dopo, sempre la notte di Halloween, Jack ha incontrato il diavolo mentre tornava a casa. Era venuto a prendere la sua anima. Va bene, ti do la mia anima, ha detto Jack. Ma prima, per favore, dammi una mela. Vorrei mangiare un frutto un'ultima volta. Il diavolo si è arrampicato su un albero di mele per prenderne una, ma Jack, con il suo coltello, ha inciso velocemente una croce sul tronco. Fammi scendere, ha urlato il diavolo arrabbiato. A causa della croce, infatti, non poteva più scendere. Io cancellerò la croce, ma tu non ti avvicinerai più a me e non chiederai mai più la mia anima, ha detto Jack. Il diavolo non aveva scelta e alla fine ha accettato. Qualche anno dopo, Jack è morto. Ma non poteva entrare in paradiso, perché aveva commesso troppi peccati. Così è sceso e ha bussato alle porte dell'inferno. Chi è? Ha chiesto il diavolo. Sono Jack. Ah, sei tu. Ricordi quando ti ho promesso che non mi sarei più avvicinato a te? Non voglio infrangere una promessa. Resta sulla terra, perché io qui non ti voglio. Ma la terra è buia e fredda, ha detto Jack. Il diavolo allora gli ha lanciato un tizzone dell'inferno. Così aveva luce per vedere e fuoco per scaldarsi. Jack ha raccolto il tizzone e lo ha messo dentro una zucca. Da quel giorno vaga sulla terra in cerca di un luogo in cui riposare. Se si fa attenzione, la notte di Halloween si può vedere la sua anima vagare per le strade, facendosi luce con la sua lanterna. La notte di Halloween si può vedere la sua anima vagare per le strade,